ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come vedete qui c'ho due dps 82 81k sto andando a fare una rack vediamo cosa succede vediamo se sto al passo oppure no non lo so vediamo ancaster ravenloft ok ok andiamo a menare ok dai strad muovite muovite vediamo se muoio ok devo tornare indietro ma se no rimango così dai rimango così e cambia solo questo ma se no potremmo questo è un 4 per cento di danni in più togliamo questo mettiamo questo andiamo così ok vabbè allora adesso qui faccio il danno loro ma io sono tutto baffato e non vale quindi non faccio il danno loro in realtà ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto libro? Che si fa? Non ce la facciamo con sto libro. Per un attimo avevo l'agrovia. Non capisco che cavoli di problema stanno avendo questi qua. Ma l'healer che fine ha fatto? Non capisco cosa sta succedendo in sta run. Non capisco. 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 Gotto. Grazie a tutti Aspettiamo a usare tutto perché sennò arriva la mobbata e non ci distrugge Ho visto dei problemi logistici in sto gruppo Grazie a tutti Mamma mia che fatica Non ho capito cosa è successo a sti giocatori Io sono morto per conseguenza altrui Non ho capito cosa è successo a sti giocatori Non so cosa è successo al primo boss Che cavolo di problemi hanno avuto Non ho capito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mamma mia Uccido tutto Ma sono a singolo Che tonto Ah ma sono a dare Vabbè Vabbè Grazie a tutti Non si capisce niente Sono a dare Sono a dare Sono a dare Ma chi è a dare Ma chi è il primo Ah prima è Tia Giusto 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 Vabbè 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 che loro sono nerfati C'è poco da fare C'è poco da fare i paragoni Loro sono stranerfati qua Ma Ah ma anche io sono nerfato Credo Allora 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 Siamo senza healer al momento. Ok, è tornato. Ah, va bene. Ah, va bene. Eh, vedete che mi sta dietro? No, anzi dovrebbe far più danno secondo me, però vabbè. Cioè, per essere un 70k contro 281k, cioè... Non mi posso lamentare. Ah, va bene. 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 Ma, è la mia figlia! Grazie a tutti. Ma questa corsa che non si schioda mai? Ma ci arriva fino a là? Va bene a me. Cosa vuole già arrivare? Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa vuole? Grazie. Ah, ma l'ora. Andiamo di là. Lasciamo uccidere al loro di sotto. Ehm, ehm. Fridon sta combattendo. Grazie a tutti. 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 Dall'ora 3 è un 6% di danni in più. La ranea. Comunque dai, non siamo andati male. Però vabbè. E questo che, vabbè, questo è riuscito a fare più danno di me. Nonostante mi baffasse, probabilmente tira più giornaliere, c'è il sicilo del devoto, vediamo lui. Ah no, anche lui, sono spiccicati. Ecco, forse è questo, set di Demo Giorgio, che non va, forse. Lui invece che ora usa? Eh, lui usa Metallar. E forse è quello, non lo so. Comunque, siamo contenti. Siamo stati al passo per essere una rack. L'altra volta ho fatto una rack contro dei ladri. Cioè, non era contro. Mi sono capitati dei ladri. Mi hanno messo alle strette, per così dire. Ho preso, boh, tipo 60-80 milioni. Però vabbè. Sono dettagli. Niente, dai. Questo era un video, boh, dimostrazione di come uso il Barbaro. Di come si comporta bene o male a grandi linee con gli altri giocatori nelle rack. Ovviamente, se andiamo a fare un contenuto endgame, come a me, Toss, cioè, essendo più basso, più basso il livello oggetto, più basso il danno, mi darebbero due piste, se non tre. E addirittura io sarei ininfluente proprio come danno, perché è troppo piccolo per fare, per esempio, un Master Toss, sta roba così, e quindi non aiuterei. Comunque, niente, dai. Non mi è sembrato fosse andato male la run contro sti due maghi. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Niente, iscrivetevi, lasciate un like e ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ciao! Ciao!